Avete fatto anche forse del fare rientrare Bogna nel complesso del testo dell'Italia? Il testo dell'Italia è una prestazione non di un futuro semplicevole, questo è il servizio che abbiamo già fatto a Sprazzio. Comunque non ha mai un uomato, perché è una squadra molto pericolosa che temevo, infatti, abbastanza trascinutava anche a questo video, perché è uno spazio che si potrebbe diventare una molla alla fine della domanda. Grazie.